Un anestesista in servizio nel reparto reanimazione dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone è stato malmenato dopo aver comunicato il decesso di un paziente, un 33enne di Rosarno e familiari che lo hanno colpito scagliandosi anche contro gli infermieri accorsi. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato che hanno denunciato in stato di libertà due donne con l'accusa di lessioni in concorso, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L'anestesista a causa dell'aggressione è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale per un trauma cranico e addominale. Sulla vicenda è intervenuto con una nota anche l'Ordine dei Medici della provincia di Crotone che ha condannato il grave e ingiustificabile gesto di aggressione. Questo ennesimo episodio di violenza nei confronti di chi si è adoperato al massimo per prestare la migliore assistenza al giovane paziente che versava in particolari e già comunicate condizioni di acclarata criticità preesistenti all'atto del ricovero e detto ancora nel comunicato si iscrive purtroppo nell'ampio fenomeno di aggressioni nel settore sanitario che in Italia ad oggi conta circa 3.000 episodi all'anno. Il Tribunale per i diritti del malato di Crotone in un comunicato ha invece espresso solidarietà al medico in servizio al reparto di rianimazione e ha auspicato inoltre un maggiore controllo notturno presso tutti i reparti. Il TDL crotonese ha inoltre auspicato l'invio dell'esercito negli ospedali e nelle guardie mediche per tutelare l'incolumità del personale. Intanto è in programma anche un sit-in di protesta.